Continuano le indagini sulla violenza sessuale subita da una ragazzina di 15 anni a Jesolo. La ragazza stava partecipando ad una festa con amici coetanei in un appartamento in affitto nella località turistica veneziana. Pare che nel corso della serata i giovani provenienti da varie città abbiano consumato anche bevande a base di alcol. I carabinieri intervenuti su richiesta di un familiare della vittima hanno identificato un 17enne come presunto autore della violenza. Il ragazzino è stato segnalato alla procura dei minori di Venezia. Sull'indagine vige al momento il più stretto riservo. La 15enne aveva subito chiesto aiuto al telefono ad un familiare facendo scattare la richiesta di aiuto al 112 e il trasporto all'ospedale per i controlli. La vicenda è seguita dalla procura per i minori che ha già disposto l'audizione protetta della 15enne.